bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi abbiamo una tonnellata di novità di cui parlare per quello che riguarda gli ultimi giorni di questa settimana di fortnite che insieme alla patch 13.30 ha un bel po di news interessanti parliamo dei veicoli parliamo dei bundle parliamo della nuova location della navicella insomma di tante cose prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente al primo argomento di oggi ed è la grande domanda che tutti ci siamo fatti ieri mattina alla dal termine del download della patch 13.30 dove cavolo sono le macchine purtroppo ragazzi hanno posticipato l'uscita dei veicoli ma non vi preoccupate non li rivedremo così lontano arriveranno molto probabilmente giovedì esattamente in concomitanza con l'uscita delle sfide non è ovviamente una notizia ufficiale anche perché ufficialmente non ci sono delle notizie per quello che riguarda epi games sappiamo però alcune cose che sono state trovate nei file di gioco scaricando appunto la nuova patch alcune notizie riguardante i veicoli se tu iti un player in velocità tu potresti essere rimbalzato fuori dall'abitacolo quindi attenzione se andiamo a sbattere contro probabilmente un ostacolo un giocatore ci spara fuori dalla macchina e credo che subiamo anche parecchi danni le auto fanno 200 di danno se esplodono da una distanza ravvicinata al player oppure 50 di danno se la distanza è un pochettino più lunga e se tu iti un player quindi sto investi un player con un veicolo lo spingi dei bones quindi come l'elicottero che ti spinge il la stesso discorso vale anche per i veicoli sono arrivate però anche delle notizie interessanti per il nuovo jerry cans petrol praticamente la tannica di benzina portatile quella che potremmo utilizzare inserire nell'inventario se volessimo appunto ottenere del rifornimento extra per i nostri veicoli tu puoi sparare alla alla barillozzo lì di petrolio di benzina se esplode fa 99 di danno ai giocatori e i 250 di danno ai veicoli quindi ragazzi un pochettino come succede quando spariamo alle pompe di benzina oppure alle bombole di propano ad esempio a pozzo traballante un'informazione extra e questo l'abbiamo già visto ragazzi e come ultima notizia abbiamo anche una nuova legacy che verrà data appunto assegnata io credo che farà parte o della modalità che dovrebbe uscire insieme ai veicoli la modalità race se non ricordo male o altrimenti magari facendo qualcosa di particolare appena lo scopriremo con con precisione ve lo dirò ci verrà assegnata appunto nella nostra legacy nel nostro obiettivo che abbiamo e andiamo avanti perché c'è un altro grandissimo evento che è capitato e che potete anche vedere in game aguzzando un pochettino la vista sto parlando ragazzi dell'arrivo di questa navicella spaziale che ha un pochettino spiazzato tutti perché nessuno si aspettava si ritornasse a parlare di navicelle spaziali in questa season 3 del capitolo 2 tutti stiamo aspettando l'arrivo di atlantide tutta la location dedicata ad atlantis mentre invece questa navicella è proprio da tutt'altra parte voglio anche farvi vedere uno spezzone direttamente preso dai file di gioco prima vi faccio vedere le immagini in modo che possiate farvi un'idea come vedete due posti all'interno e uno dei due posti non è vuoto adesso ve lo farò vedere questa sarà la location dove apparirà al momento dell'abbassamento del livello delle acque se tra l'altro notate proprio qua sotto vedete questo bagliore verde sì ragazzi tutti e due questi oggetti sono già presenti in game e il bagliore verde è appunto il distaccamento di un motore che è andato a schiantarsi pesantemente contro il versante della montagna vi faccio vedere un attimo anche proprio lo spezzone di come è adesso la navicella la trovate appunto sott'acqua immaginate che alle vostre spalle c'è scogliere e come vedete c'è anche un passeggero molto interessante seduto lì una specie di astronauta e sarà una skin ragazzi perché in realtà ve l'ho fatta vedere nel video di ieri mattina quello dedicato ovviamente a tutte le news di questa patch 13.30 sappiamo però che verrà accompagnata la navicella da alcune sfide che si chiameranno sfide dell'astronave antica cinque fasi la prima trova l'astronave antica abbiamo appena visto dov'è la seconda colleziona le parti mancanti la terza installa le parti mancanti la quarta prepara la sequenza di lancio e la quinta ferma il lancio della navicella non sappiamo davvero ragazzi cosa aspettarci ci viene in mente che i colori dell'astronave sono simili a quelli di siona una delle skin a livello 70 del pass battaglia di questa season se non ricordo male vedremo se c'è un collegamento con lei oppure è una pura coincidenza e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché arrivano anche le prime immagini ufficiali per quanto riguarda le fncs le qualificazioni che ci saranno il primo e il 2 agosto poi il 6 e il 7 agosto vi faccio vedere molto rapidamente tutte le immagini questa è quella della prima settimana questa è quella della seconda e via con la terza e terminiamo con la quarta quindi ragazzi le qualifiche sono aperte a tutti un bel in bocca al lupo provate e mettetecela tutta arriviamo però a un argomento davvero molto interessante che ci fa ben sperare per questo fine per questa fine season tra l'altro non abbiamo ancora in mente se ci sarà in questa season un evento non si parla assolutamente di questa cosa siamo tutti troppo impegnati ad aspettare i veicoli ad aspettare appunto tutto il discorso aquaman che ancora non ci siamo resi conto che in realtà sono già partiti i test server per la pace 14.00 e per 14 si intende season 4 se così fosse sarebbe la prima volta dopo anni ora io non so quando è stata l'ultima season che hanno rilasciato senza il delay quindi senza posticiparla credo fosse ma neanche la season 9 addirittura da season 8 avevano già posticipato quindi è una cosa che a me sinceramente fa un sacco piacere e conferma che ep games sta lavorando tantissimo per mantenere sempre a livelli altissimi il nostro battle royale preferito quindi aspettiamoci che la season termini davvero il 27 agosto e non ci sia nessun posticipo questo vorrebbe anche dire che non arriveranno stili aggiuntivi per determinate skin non arriveranno sfide extra per prendere punti esperienza una piccola informazione vi ricordo che in questa season dobbiamo arrivare a livello 160 per ottenere la il bagliore completo nella skin del cavaliere di livello 100 quindi per chi ancora non lo sapesse ecco 160 è il livello massimo da raggiungere per avere proprio tutto e andiamo a chiudere ragazzi le news di oggi parlando anche di un argomento che non c'entra con fortnite o meglio non direttamente ma rocket league dall'estate 2020 non sappiamo ancora quando passerà sotto il controllo di epi games verrà rimosso da steam ed epi games ha deciso di darlo gratuitamente a tutti quelli che lo vorranno scaricare dallo store per un periodo limitato rocket league so che è un gioco io l'ho visto veramente pochissimo tipo le macchine con la palla che devi fare gol proprio una specie di partita di calcio con le macchine so che molti di voi ci giocano e molti di voi piace quindi una bella notizia per tutti noi diciamo magari perché non scaricarlo e farci una prova e andiamo ragazzi in realtà a chiudere il video di oggi con le sfide di questa settimana che ovviamente arriveranno giovedì è molto interessante la quarta sfida che è quella che dice gas up a vehicle at catty corner fai benzina a un veicolo a gatto grill vuol dire che ovviamente i veicoli arriveranno o giovedì o prima di giovedì abbiamo poi delle altre sfide fai danno a pozzo traballante cerca dei forzeri ma non sappiamo bene dove cerca le scatole di munizioni assalti spring insomma ragazzi tante news tante novità anche per questa pace per quest'oggi io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao